Migliore esibizione Sasuke! Presentati, di che cosplay porti anche se credo che l'hanno capito e dicci come hai iniziato! Sono Samuele e questo è Sasuke di Naruto e ho cominciato nel 2008 portando Light di Death Note E' stato quel progetto iniziale che mi ha fatto innamorare del cosplay e adesso sto cercando di migliorare e insomma migliorarmi Complimenti! Vi ringrazio! Ma più che noi devi ringraziare loro! E io ringrazio tutti voi ancora che siete qui insieme a noi! Un applauso a tutti voi ragazzi! Se vuoi fare qualche foto? Grazie! 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 Grazie!